A 24 anni, residente nel comune di Bellizzi, il giovane trovato questa mattina senza vita nell'area industriale di Battipaglia. Pare sia rimasto folgorato da una scarica elettrica mentre probabilmente tentava di rubare rame in una cabina elettrica di via Bosco Primo nei pressi di un'ex fabbrica abbandonata, la MGM, azienda che anni fa trattava pneumatici usurati, dove oltre tre anni fa si è anche sviluppato un incendio di ingenti proporzioni. Il drammatico incidente è avvenuto probabilmente nel corso della notte. A dare l'allarme al 112 questa mattina sono stati alcuni operai di un capannone industriale vicino che ha notato la presenza di una persona riversa a terra nei pressi della cabina elettrica ad alto voltaggio. Sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato di Battipaglia guidati dal vicequestore Giuseppe Fedele, sul posto anche i volontari del soccorso del 118 che non hanno potuto che costatarne il decesso. La salma, dopo l'arrivo del magistrato di turno, è stata restituita ai familiari per la sepoltura. Una disgrazia ed una consuetudine che spesso, soprattutto in alcune zone come quella della Piana del Sele, vede protagonisti, soprattutto stranieri, a rubare il famoso oro rosso.